Il vincente di gara oggi, ha vinto l'anno scorso a Ducati, ma questa volta a Kawasaki, Lorenzo Savadori per il team Pedaccini. Lorenzo, una fantastica battaglia, una fantastica gara per te, inizia il 9o, ma quando avessi l'anno scorso, hai controllato la gara. Sono felicissimo di essere ritornato alla vittoria.